Cambiamo completamente argomento, vi presento gli ospiti che ci hanno raggiunto qui in studio Claudio Diaz, presidente di AIDEFAD, associazione italiana a disordini da esposizioni fetali ad alcol, giusto? Esatto, giustissimo E invece la dottoressa Patrizia Riscica, giusto? Presidente del comitato scientifico Esatto, della stessa associazione Partirei con un video, che è un video simpatico, che però pone l'attenzione su un argomento che è importante E vediamo se la regia riesce a mandarci il video del mamma beve, bimbo beve Del sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra e della moglie Alessandra, influencer per un giorno Ciao more, bicchierino? Ma sei fuori? Perché? Mamma beve, bimbo beve? Eh, non lo sapevo mica Eh, non lo sapevi Non si può neanche un bicchiere Ah, non si può neanche un boccio Allora sai cosa c'è? Non bevo neanch'io Il sindaco Marco Della Pietra e la moglie Alessandra, in dolce attesa Influencer per sensibilizzare le giovani coppie contro l'uso dell'alcol in gravidanza Un modo simpatico, ma che ha l'obiettivo di porre l'attenzione su una problematica tanto importante quanto mai seria La coppia ha aderito all'iniziativa Zero Alcol in Gravidanza portata avanti dall'Associazione Italiana Disordine da Esposizione Fetale da Alcol e o Droghe Anche solo un goccio di alcol può provocare numerosi problemi nei bimbi Da qui il video, mamma e papà insieme con lo stesso obiettivo salvaguardare il piccolo Claudio, uso e abuso Anche l'uso, anche una goccia di alcol può provocare problemi gravissimi nei bimbi Sì esatto, diciamo che il concetto importante da passare quando parliamo di questo argomento Quello che non è solo un problema che riguarda i forti bevitori Ma è un problema che riguarda anche l'uso occasionale Che può riguardare anche l'uso occasionale di alcol Cioè l'unica indicazione che oggi la scienza dà è quella di non assumere neanche un goccio di alcol durante la gravidanza È ovvio che maggiore l'assunzione di alcol, maggiore sarà sia il rischio che il danno Ma siccome non conosciamo quello che è il limite sotto il quale il danno non esiste E siccome la scienza ci dice che la FASD, cioè l'intero spettro delle manifestazioni Conseguenti l'uso di alcol in gravidanza Supera per numero autismo, paralisi cerebrale, sindrome di Tourette e Down, sindrome di Down insieme Ci rendiamo conto che questa è un'epidemia nascosta È un'epidemia nascosta anche perché molte delle manifestazioni dell'esposizione all'alcol Oggi ottengono delle diagnosi non corrette Che tendono a descrivere esclusivamente quelli che sono i sintomi che si manifestano più in là nell'età Senza identificare la causa che invece è ciò che in medicina si dovrebbe sempre cercare di fare Ecco, di solito si dice insomma le mamme non bevono Non è così in realtà, perché uno dice uno sprizza e magari lo fa Esatto Il problema del fatto che le mamme bevono è legato anche molto al fatto che purtroppo ancora oggi Moltissime ostetriche e ginecologi passano il messaggio che un bicchiere a pasto addirittura è consentito Quindi la madre giustamente si sente autorizzata a bere E nel momento in cui io sdogano un bicchiere nella psiche della persona ne sto sdoganando più di uno Per cui siccome non tutti sono tenuti a doversi autonomamente informare Ma si fidano di quello che il medico gli dice È fondamentale che i professionisti sanitari comincino a veicolare quello che è il messaggio Che la scienza passa e cioè che non si beve niente Non si fuma niente e come non si assume i crostacei o le altre cose non si assume neanche l'alcol Io dico sempre Perché paradossalmente, mi scusi, paradossalmente c'è uno non mangia crostacei però beve Ma poi dico chi è che il giorno che torna a casa dall'ospedale con il suo bambino appena nato Per festeggiare gli fa bere un bicchiere di spumante Ma nessuno li passerebbe per l'anticamera del cervello Però siccome quando è in pancia è ancora qualcosa di inesistente Quando io bevo quel bicchiere il bambino se lo beve tutto uguale Quindi rendiamoci conto che un feto il cui cervello si sta sviluppando I cui organi si stanno sviluppando Se comincia a bere a ogni pranzo o anche a ogni weekend due spritz, tre spritz Quale può essere il danno che li causiamo? Quindi è fondamentale evitare Ed è fondamentale quando si iniziano ad avere certe manifestazioni Se ormai, tra virgolette, il danno è fatto Identificarle correttamente Dottoressa, ci sono dei dati a livello magari provinciale di questa problematica? Quante donne? Allora, intanto io sono molto contenta che sia tornata la scritta Mamma beve, bimbo beve Che è un progetto che nasce nella nostra azienda sanitaria Quando io ci lavoravo, perché adesso sono felicemente pensionata Ed è un progetto che è nato nel 2009 Proprio per prevenire questo aspetto di questa sindrome Che definiamo trasparente o invisibile Nel senso che è poco nota, poco conosciuta dagli stessi professionisti All'epoca per partire Tanto per darvi un po' di dati anche Per partire proprio con questo progetto di prevenzione Abbiamo fatto una ricerca qua nel nostro territorio Abbiamo testato gli adolescenti per capire che tipo di comportamento avevano Abbiamo testato i medici e le ostetriche per capire che conoscenza avevano su questo argomento Abbiamo testato le donne in gravidanza Qua nel nostro territorio veniva fuori un dato del 35% di donne Che affermavano di aver consumato almeno un bicchiere durante la gravidanza Io credo che questi dati se rifacessimo la ricerca oggi Sarebbero molto meno per certi versi Perché il messaggio è un po' passato Quindi c'è più coscienza di questo C'è più consapevolezza Noi abbiamo fatto come Aidefad recentemente Un lavoro insieme all'Istituto Superiore di Sanità Di formazione online, tre FAD E in più è stato pubblicato il 9 settembre Sempre con l'Istituto Superiore di Sanità Con un progetto finanziato Un manuale che si chiama Prendersi cura della FASD Una sindrome quasi invisibile Che è un manuale non è soltanto per gli operatori Ma è anche per le famiglie, per i cittadini Ed è anche scaricabile con un PDF Quindi là dentro ci sono moltissimi dati Quindi per quanto riguarda il consumo nel Veneto Questo è un dato vecchio I dati che danno oggi sono sul 10% di consumo nelle donne Sempre l'Istituto di Sanità sta facendo adesso E quindi i dati non li abbiamo Una ricerca per testare il consumo in Italia Quindi nelle varie regioni del consumo Cosa fanno? Possono dosare un metabolito dell'alcol nel meconio Il meconio è quello che il bambino espelle Appena nato dall'intestino E contemporaneamente la ricerca di questo metabolito Nel cappello della donna Perché si deposita Per vedere quanti Dobbiamo attendere che questa ricerca si consolidi E ci siano tutti dati per poter dire qualcosa Comunque anche Aidefad è vicino a questo progetto E ha partecipato al progetto E ci sono le mamme che vengono a chiedervi consiglio Sì, allora Aidefad è un'associazione nazionale Quindi è in contatto con tutte le regioni italiane Il lockdown per certi versi ha anche favorito i contatti Perché sono state fatte molte riunioni, molti incontri Quindi ha permesso un maggiore rete Quindi per certi versi è stato anche positivo E per cui si capita Di solito scrivono ad Aidefad Al direttivo, alla segreteria Con qualche quesito L'ultimo e recente, no Claudio? Di una mamma preoccupata Che aveva bevuto prima La prima, proprio appena concepito Ed era molto preoccupata E quindi chiedeva cosa doveva fare E' una situazione molto delicata questa Anche nel dare consigli Perché ci si muove proprio Noi tendiamo a rappresentare due realtà parallele Cioè quelle delle famiglie biologiche, naturali Che per ovvie ragioni che non serve neanche spiegare Difficilmente arrivano e vogliono ammettere Anche se in molti paesi, quelli anglosassoni Ci sono moltissime madri oggi Che si fanno testimonial Madri biologiche perché hanno bevuto I figli hanno avuto dei problemi Loro non hanno sentito lo stigma Ma hanno sentito l'accoglienza Quindi si sono messe in prima linea Per dare il messaggio di non bere Qui da noi in Italia Ad oggi l'associazione fondamentalmente Rappresenta famiglie adottive Famiglie adottive internazionali E adozioni nazionali Perché qui c'è un altro enorme tema Che è quello della difficoltà Di ottenere le informazioni Sulle origini Tema che recentemente Proprio l'Europa ha condannato l'Italia Su questa problematica L'Italia si è un po' mossa Per cui adesso in certi casi Qualche informazione tende a darla Ma tendenzialmente c'è un vuoto E questo vuoto si traduce poi Nel vuoto di presa in carico Da parte dei servizi Perché chiaramente le manifestazioni Che questi ragazzi hanno Essendo molto varie E non rientrando precisamente Magari ci puoi dire tipo quali reazioni Le reazioni che tendenzialmente si hanno Sono dei lievi ritardi intellettivi Ma non sempre Molto spesso non c'è un ritardo intellettivo Ma c'è un O meglio ancora A me piace di più il termine Disabilità intellettiva Perché il ritardo è un termine Che non si usa più da tanto tempo Ma per lo più Stiamo su punteggi medio-bassi La grande parte Ci sono Vengono diagnosticati disturbi Borderline di personalità Vengono Fatte diagnosi Di Di ADHD Di autismo Quasi sempre L'autismo ad alto funzionamento Quindi la sindrome di Aspera Tutto collegabile Sì più che altro sono queste In realtà Delle diagnosi Che descrivono La manifestazione Che il medico vede Ma in realtà Quella manifestazione È il risultato Del danno cerebrale Che c'è stato Che si traduce In comportamenti anomali E molto spesso La diagnosi Psichiatrica O quella delle dipendenze Perché le persone Esposte ad alcol Tendono ad avere In un 45 50% dei casi Problemi di dipendenza A loro volta In un numero simile Problemi con la giustizia Quindi noi ci rendiamo conto Che fare emergere il problema Identificarlo Diagnosticarlo Serve sia a dare la cura giusta Ma anche a ridurre L'impatto Che tutto questo Ha sulla società Perché se noi Continuiamo a Mettere in carcere Continuiamo a Curare a psicofarmaci Dove invece potremmo Prevenire Cercare di ridurre Identificando questi pazienti Al primo accesso In penitenziario Al primo accesso A un cert Al primo accesso A un pronto soccorso Per una crisi psicotica O altre cose Con un'anamnesi Attenta Noi avremo Gli strumenti Per iniziare A cambiare Il punto di vista Su questi comportamenti E riuscire a fornire Delle indicazioni Migliori Spesso per la persona Che ha i problemi Psichiatrici Spesso sono il risultato Non tanto Della sindrome In sé Quanto di una vita In cui la persona Non è riuscita A darsi una spiegazione Dei suoi comportamenti Ecco fra l'altro Lei sta toccando Uno degli argomenti Di cui purtroppo Abbiamo dovuto parlare Negli ultimi Negli ultimi tempi Perché lo abbiamo visto Tanti casi Di problemi Psichiatrici E purtroppo Tanti casi Fatti di cronaca Che abbiamo dovuto raccontare Insomma Gravi Gravissimi Da cui non si sa mai Cosa Cos'è successo Cos'è scattato Perché è scattato E soprattutto Tutti si domandano Perché non vengono Seguiti O comunque Sono persone Dottoresse magari Forse questo Posso dire Intanto noi abbiamo Un fattore Cioè Molte di queste situazioni Sono anche casi Di persone Che usano sostanze Ed è un problema Che in questo momento Per una serie di motivi Che possiamo anche vedere Di provare a analizzare Sarebbe un discorso Molto lungo È una cosa Che passa un po' Sottaciuta Non è sempre Ben considerata C'è un fattore Culturale Sull'alcol Per cui L'alcol È accettato E quindi Chi consuma alcol È considerato normale È diventato Una moda Pensiamo Ai nostri adolescenti Che sempre più In giovane età Quando abbiamo fatto Quella ricerca Nel 2009 Si parlava Di 11-12 anni Il primo consumo Di alcol Per molti Adesso Sento insegnanti Che mi dicono Che arrivano Anche a scuola Che hanno bevuto Al mattino E quindi C'è tutta Questa problematica Per esempio Dell'uso dell'alcol Dell'uso delle altre sostanze Cocaina in particolare Che rimane Un po' sotto Pensiamo Che comunque Il traffico Di sostanze Illegali Supera il PIL Dell'Italia Per capirci Di cosa parliamo Mi scusami Lei prima stava Dicendo Un dato Che un po' Sconcerta Un po' Lo sappiamo Perché abbiamo Appunto Sentito proprio Il prefetto Sull'uso Abuso Dell'alcol Abbiamo visto Gli incidenti stradali Non ne parliamo Di purtroppo Gravi E ci diceva Dagli ultimi controlli Delle forze Dell'ordine Notiamo Che Ci sono persone Alla guida Già Dalla mattina Che hanno Tassi alcolemici Oltre il limite Oltre il limite Cioè la mattina Fa pensare E preoccupa Lei mi diceva Addirittura Giovani Giovanissimi Beh Sono cambiate Ulteriormente Un po' Le modalità Di consumo Noi una volta Avevamo Una modalità Di consumo Di tipo Mediterraneo Che significa A pasto Regolarmente A pasto Come un alimento Che Per certi versi Era Tra virgolette Più Protettivo Rispetto al consumo Che si è adesso Di tipo Nordico Ovvero Lo sballo Binge drinking Cosiddetto Nei weekend O di sera Fra l'altro Io ho notato Che In particolare Nella nostra zona Non è Tanto Nei weekend Come possiamo Osservare Nel popoli Nordici Ma è quasi Ogni sera Perché se Andiamo in giro Per le strade Abbiamo Degli agglomerati Di persone Che basta andare Insomma Treviso Non è che Senza fare nomi Dei locali Per cui è cambiato La modalità Di consumo Quindi è un consumo Molto più pericoloso Molto più pericoloso Con elevati Tassi alcolici E soprattutto Fra giovanissimi E fra giovanissimi Questo Secondo Io ribadisco Un po' Covid Situazione Non so Si è persa un pochino Per strada La prevenzione Perché Per esempio Adesso non so Non credo che si facciano più Si facevano dei corsi Per le persone Che venivano formate In guida di stato di ebrezza Avevano un certo iter C'erano dei protocolli Adesso è un po' Sfuggito tutto Ed è molto difficile È diventata È diventata Una società Sicuramente Molto più complessa Anche per l'uso Di sostanze Noi non sappiamo Che uso c'è Ma probabilmente Le tracce di cocaina Nel Sile Ci sono Insomma Mi pare Anzi Che le abbiano rilevate Quindi significa Che c'è un consumo Però questo E in qualche modo E molti disturbi O situazioni Pensiamo A crisi violenti Pensiamo Io ripenso Anche molti femminicidi Sono in relazione Al consumo di sostanze E un pochino Si fa finta di niente Cioè non c'è nessuno Che si prende Questa responsabilità I servizi Anche sappiamo Che cosa sta soffrendo La sanità In questo momento Quindi anche I CERT Le psichiatrie Sono In una situazione Un po' più Di difficoltà E di un grosso aumento Dei pazienti Che stanno arrivando Ecco Come associazione Da questo punto di vista Potete far qualcosa State facendo qualcosa Chiaramente dopo passo La parola a Claudio Però uno degli obiettivi Dell'associazione È anche la prevenzione L'informazione La formazione Io Quando siamo partiti Tiro sempre fuori Il 2009 Scusatemi L'idea era proprio quella Di usare anche Il discorso Alcogravidanza Per aumentare la cultura Sulla tossicità Dell'alcol Perché l'alcol È un'azione teratogena Cosa significa? Significa che modifica La configurazione Delle nostre cellule Le cambia Soprattutto dei nostri neuroni Quando parlava Di queste disabilità Claudio Non è che sono disabilità Che nascono Nascono da un danno organico Da un danno organico Vuol dire che A livello dell'amigdala Nell'ipocampo Ci sono dei danni I neuroni Non sono Gli stessi Non sono a posto Sono in qualche modo Disadattati Anche loro Usiamo questo termine È molto difficile Far passare Questo messaggio Ma deve cambiare Un po' la cultura La cultura Non è facilmente cambiabile Nel Veneto Poi è molto difficile Cambiarla Per cui L'associazione È riuscita In questi anni Se vuoi andare a fare Una ricerca Così storica E vedere quanto in Italia Si parlava di FASD Fino al 2018 Che è nata l'associazione E quanto Se ne parla Anche a livello di stampa Eccetera Dopo quella data lì Voi vedete che c'è stato Un boom Dell'informazione L'informazione Serve al riconoscimento E serve alla Consapevolezza E quindi Chiaramente Molte sono le famiglie Adottive Che finalmente Hanno trovato una risposta Molte le famiglie Biologiche Che stavano per formarsi Che hanno evitato Di assumere alcol Molte le famiglie Adottive Che prima Dell'adozione Perché qui c'è un altro Tema Importantissimo Che è quello Che purtroppo Le famiglie adottive Non sono accompagnate Adeguatamente Nel percorso di adozione Le nostre famiglie E sono tante Perché noi Iniziamo a rappresentare Più di 115 famiglie Che in sé Non è un numero grande Ma è specchio Della forza Di queste famiglie Di avere un po' Vinto lo stigma Perché non è facile Ammettere Che c'è stato Questo tipo di problema Sono molto abbandonate Per cui tutte Quasi tutte Avevano per esempio Dato disponibilità Per quello che si definisce Lieve e reversibile Disabilità Quindi io genitore Dico Sono pronto a questo Arrivati nel paese Soprattutto estero Sono state nascostate Minimizzate Le condizioni Sulla spinta Delle emotività Di quel momento Ti mettono questo bambino In braccio Uno non capisce più niente Tornano a casa E si ritrovano Una disabilità Permanente Creando un danno Enorme Io dico sempre L'adozione deve essere Qualità Non quantità Questi sono argomenti Che magari passano davvero Sembra Tra virgolette Passatemi il termine Quasi in secondo piano Perché uno dice Vabbè ho il bambino E non si conosce Invece poi Tutto questo Dietro Sommerso Che non Ma questo è vitale Perché il fatto di sapere Allora intanto Di base Io siccome cedo Ma ci sono famiglie Che vogliono adottare bambini Con special needs Con disabilità Ci sono famiglie Che adottano disabilità gravissime Basta semplicemente Passatemi il termine brutto Unire domanda e offerta Quindi se la famiglia È consapevole E desidera Questo tipo Di affrontare Questo tipo di disabilità Formata Informata Accoglierà quel bambino Ma la famiglia Che non si sente pronta Non deve essere messa In condizione Di trovarsi poi Catapultata In una realtà Che non è pronta A gestire Quindi noi abbiamo lavorato Molto anche su questo E molte famiglie Ci hanno contattato Prima dell'adozione Una volta Dopo il confronto Dopo aver ricevuto Le informazioni Queste famiglie Hanno scelto di adottare E oggi I messaggi che mi mandano È Siamo la famiglia Più felice del mondo Nonostante la sindrome Un ultimo punto Voglio dire velocemente È importante sapere che E io ne sono La dimostrazione Se Si hanno le informazioni Se si sa Che cosa succede A se stessi Perché c'è Quel comportamento Perché succede Quella Quella difficoltà La vita di una persona Esposta all'alcol O alle droghe Può essere una vita Produttiva Serena Felice Non si è destinati A la sofferenza E il disagio Ma nemmeno nei casi Più evidenti Di problematica Quello che deve cambiare È il punto di vista Che la persona Ha di se stessa E che la famiglia E la società Hanno di lei Se io comincio a guardare Quelli che sono I punti di forza Di quell'individuo E conosco E conosco Le ragioni Di quelli che sono I suoi punti Di difficoltà Io lo sto aiutando Ad andare avanti A essere produttivo A contribuire Alla società Se io invece Mi fisso Su tutto quello Che non va E non conosco Il perché Mi succede Quella cosa Sono destinato A un disturbo Psichiatrico All'uso di alcol Per essere accettato Per sapire L'ansia E la depressione Che vivo Fondamentale Conoscere E informare Esatto Esatto Il messaggio Che dà Marco Il sindaco Di Spresiano È molto importante Quando lui dice Allora non bevo neanch'io Intanto Perché questo È un atteggiamento Di supporto Alla compagna E di condivisione Di un percorso Ma poi perché La scienza Sempre di più Ci dice È che anche L'uso di alcol Nell'uomo Prima Del concepimento Danneggia Il seme E il seme Trasmetterà I danni Alla prole Danni Che la scienza Questo Visto nei ratti Ma insomma Tende a dire Che addirittura Si protrarranno Per tre generazioni Quindi voglio dire Non beviamo Finché non vogliamo Avere figli Quando avremo avuto figli Li avremo allattati Magari li avremo curati E cresciuti Vogliamo bere Beviamo Ma è così importante Assumere questo grande quantitativo di alcol Di tabacco Di sostanze C'è un altro tema importante La cannabis La cannabis Molte donne La stanno iniziando a usare Come antiemetico Per le nausee Mattutina Con dei danni Nel feto Uguali a quelli dell'alcol Sarebbe un argomento Davvero Vastissimo Che mi piacerebbe Poi fra l'altro Riproporre Anche in una prossima Edizione Perché tante Sarebbero le cose Da dire Mi piacerebbe Riavere qua in studio Claudio Anche Patrizia Perché ci sarebbero Anche tantissime altre cose Purtroppo la nostra Claudio potrebbe raccontare La sua storia Che credo che talmente E io Esatto Spero davvero Volentieri Potrei avere Claudio Ancora qui Volentieri Anche per raccontare Forse la sua storia Che potrebbe essere Poi un Certo Uno specchio Uno specchio Per far capire Che cosa Può accadere Io ho visto che Ho già In collegati Dei politici Dovamo Per trattare altri Argomenti Io vorrei ringraziare Intanto Claudio Per essere stato con noi Davvero E spero di poterlo avere Qua prestissimo E anche Patrizia Perché ci sono tante cose Ancora da dire Su questo argomento Mentre io Saluto loro Leggo una notizia Qua Intanto saluto Claudio E saluto anche Patrizia E riguardo al medico Accoltellato È intervenuto Il presidente dell'ordine Gesto esecrabile Ci troviamo Dinanzi ad un gesto Esecrabile Che purtroppo Evidenza in tutta la sua gravità La difficilissima posizione Nella quale Ogni giorno I medici Sono costretti a lavorare Lo afferma il dottor Domenico Maria Crisara Presidente ordine dei medici Chirurghi Adontoiatri Della provincia di Padova Sta venendo a meno Quel rapporto di fiducia Che era il caposaldo Del rapporto medico Paziente Sino a poco tempo fa Lo ribadisco Nuovamente Da eroi salvatori I medici Sono stati visti Come il nemico Da osteggiare A fianco E da colpire In senso letterare Dando sfogo A tutta la propria violenza E insoddisfazione Un fatto gravissimo Abbiamo sentito Anche poi Le parole Del presidente Zaia Io saluto I miei ospiti Intanto Se Riusciamo A mandare in onda Grazie